Francesco, passo due parole su questo se vuoi intervenire anche tu, visto che Franco ce l'ha chiesto, allora c'è in mano un libro, un vecchio libro, ormai si può dire vecchio, perché ormai le notizie al suo interno sono vecchie, è di Graham Harvey ed è I credenti della nuova era, i pagani contemporanei. Questo libro è stato scritto nel 1997, cioè cinque anni fa, è tutto sommato un libro buonista, diciamo così, di analisi di quello che sono i vari movimenti di allora del paganesimo, solo che i movimenti di allora del paganesimo, che purtroppo abbiamo ancora qualcuno, veniva fuori da quello che è l'orrore cristiano, cioè non avevano capacità di contrapporre se stessi al cristianesimo, ma cercavano praticamente una nicchia, uno spazio all'interno della società civile per praticare quella che era la loro fede. Purtroppo Graham, come credenti della nuova era, è quasi tutto parte dei gruppi inglesi, fa l'analisi di gruppi inglesi e gruppi religiosi e come loro si pongono, diciamo così, nella vita. È bello da leggere tutto sommato, è un libro essenzialmente buonista, ecco, dal mio punto di vista almeno lo è. Il problema del paganesimo, e che non viene affrontato da questo libro, è che il termine pagano va riempito di significato, cioè il termine pagano non esiste, questo è che dovete mettervi in testa, cioè non esiste una significazione del termine pagano se non come insulto rivolto agli altri. Il cristiano è inventato il termine pagano per insultare gli altri. Per cui il problema è proprio quello, nel riempire di significato il termine pagano, cioè in cosa crediamo? Siamo pagani, ma che me significa dire essere pagani? Cioè, io ho una visione della vita, vedo delle trasformazioni e vedo delle modificazioni. Certo, tutte le persone che sono vicine a noi hanno la loro visione, cioè hanno tutte le loro variabili e anche le loro differenziazioni. Nessuno nega questo, anzi guai se non fosse così, cioè sarebbe proprio mancare quello che siamo. Però, quello che io dico, questo è paganesimo, io lo devo riempire di significato, devo farmi un mazzo tanto. Non posso dire, mi sono pagano, che me significa? Cioè, non significa assolutamente niente, è come se uno dicesse, io sono un deficiente, che me significa? Non mi significa niente in cosa, deficit? Cioè, bisogna riuscire a riempire il termine di significato. E questo è ciò che non è mai stato fatto fra i pagani, fra i vicani, fra tutti quelli che sono i gruppi religiosi che non riescono a trovare una loro collocazione. In pratica hanno questo amore per la natura, questa loro esternazione per la vita, hanno questa sensibilità anche rispetto al mondo perché sono ecologisti, hanno tutta una serie di specificità, però non sono in grado di rimuovere la loro struttura emozionale. Non sanno confrontarsi col mondo. E questo è stato il motivo per cui questo libro, scritto nel 97, è molto bello, oggi dà una visione completamente diversa di quello che è la vita. Sì, appunto, il libro che è stato appunto parlando, che è credente nella nuova era, che è sotto i pagani contemporanei, che tra l'altro nell'edizione inglese aveva un titolo ben diverso, è un libro che è antologico sulla realtà molto dinamica, molto controversa, molto variegata, della realtà anglosassola e del paganesimo. Perché i pagani dell'area americana o dell'area inglese sono abbastanza eterogenei, sono abbastanza poi semplici e sproveduti rispetto a molte cose. Anche perché loro non hanno mai approfondito delle tematiche fondamentali, non hanno mai affrontate. È una cosa che i pagani dell'area anglosassona, dell'area americana, hanno sempre il termine di madre terra, di grande dea, della grande dea femminile e cose del genere. Però dal punto di vista esistenziale e storico non hanno mai fatto delle scelte proprio di campo, anche perché vanno sempre a limitarsi a un discorso puramente esistenziale. Poi una cosa che io trovo abbastanza povera è la loro volontà, di così dire, della via della vicecraft solitaria, cioè nel senso della vica eclettica, che anche lì sinceramente la trovo abbastanza anormale per un pagano, perché un pagano è sempre all'interno di una comunità, è sempre legato a delle radici, a un'espressione culturale. E il fatto stesso è che proprio loro stiano a ripetere termini come la madre terra. E non vanno a implicare che in fondo tutto il mondo e tutti i mondi sono divini e tutti sono delle divinità. E' abbastanza riduttivo. Poi sai, le definizioni che loro danno di paganesimo è soltanto dire che è un'antica religione della terra. Non è vero, il paganesimo non è un'antica religione della terra, perché il paganesimo prima di tutto è una dimensione esistenziale delle persone. E' un qualcosa che non è opzionale, cioè non è che uno può dire posso rinunciare o non essere. E' un modo di essere ben chiaro e ben preciso. Ma soprattutto una cosa che proprio loro tendono ad annientare è questa volontà di riconnettersi alla grande madre, alla grande dea, alla madre terra. E li portassero a una dimensione puramente univoca di riferimento. Cioè nel senso che parlano del Dio, la dea. Ma quello che bisogna sempre parlare è sempre parlare per plurale, cioè sempre parlare da politeisti, cioè comprendere che il mondo è un insieme di divinità, che anche noi siamo divini. E questo fatto di un paganesimo che è veramente povero, perché se chi conosce bene l'ambito americano si rende conto anche delle impreparazioni esistenziali che hanno molti pagani nell'affrontare la realtà. Il fatto stesso è che non abbiano il coraggio di scegliere o di affermare duramente cosa che non appartiene alla dimensione religiosa. Perché ad esempio una cosa che io trovo assurda è questo considerare in positivo anche il cristianesimo. In fondo è una via, ma questo significa non aver fatto un'analisi profonda, non aver compreso cos'è che fa parte della vita e cosa ne è contro. Certo, anche il mondo anglosassone, il mondo americano, il paganesimo è in trasformazione, è in modificazione. Però l'importante sarebbe che chi vive in Italia, che alle spalle ha un bagaglio culturale fortissimo, che abbiamo delle radici molto profonde o dei legami con molte culture, che abbiamo un panteo molteplici, perché basta pensare solo alla dimensione dei panteo di Roma e il panteo dei greci, ma anche a chi si vuole fare l'area accetica, abbiamo un panteo enorme. Alla fine il loro richiamarsi alle divinità sono un paio di divinità. Non c'è una volontà di conoscere il panteo, ma perché è fondamentale conoscere un panteo di una dimensione religiosa? Perché il panteo ti insegna la molteplicità dei legami e che nulla è scollegato, che tutto è collegato e che di conseguenza non possiamo pretendere di rincorrere una sola divinità. E soprattutto dobbiamo comprendere che le divinità del paganesimo non sono le divinità codificate in un passato, ma sono divinità che nascono, si trasformano, che vivono con noi. E questo è una mancanza grave per quanto riguarda quel libro, che comunque consiglio per chi ad esempio non ha delle conoscenze sulla realtà del paganesimo all'iforio dell'Italia, questo libro appunto della Feltrinelli che si chiama Il credente della nuova era, i pagani contemporanei, può essere un viatico, può essere un'introduzione, può essere anche un documento storico di come era una certa forma di paganesimo in ambito americano, in ambito inglese e di come si è trasformato. D'altronde questi pagani purtroppo molte volte non fanno delle scelte e il non fare delle scelte significa che gli altri seguono per te. Esatto, che le cose siano cambiate in maniera brutale, perché effettivamente è stato un cambiamento di velocità da quando questo libro è stato scritto, pubblicarlo nel 97 significa averlo scritto nel 95, più o meno insomma dalla data di scrittura, di analisi, ricerca dati. C'è stato effettivamente un grossissimo cambiamento, e un cambiamento è stato dovuto a questa radio, cioè al nostro lavoro che è stato a livello mondiale un cambiamento all'interno del paganesimo, perché non pensate che quando la gente si è trovata a prendersi a streone e guardiamo dell'anticristo, c'è stata tutta una modificazione delle persone che sono andate effettivamente a analizzare un po' le cose, forse per la prima volta nella loro vita si sono accorti che essere pagano significa qualcosa di diverso, qualcosa di più, e qualcosa di molto più profondo di quanto loro stesse pensavano. Per cui c'è una riscoperta anche a livello mondiale di quello che stiamo facendo, e tutta questa roba qua ormai non la... cioè ha il valore, nel senso che... Di documentazione, sì. Esatto, ma che il mondo sia vivo, anche i pagani di allora percepivano il mondo vivente e il mondo che li chiamava, per cui il loro coinvolgimento c'era, e naturalmente lo descrivevano come potevano, però da quando siamo a farsi noi abbiamo dato uno scossone a tutto quello che è la lettura del paganesimo mondiale, che non può più prescindere, tant'è che ho visto dei siti della Wicca che cominciano ormai a mettere anche in prima pagina le differenziazioni fra loro e i cristiani, e che è già insomma una cosa notevole rispetto a qualche anno fa. Dopo ci sono molti siti della Wicca fatti proprio da cristiani, per cui le persone, ecco, è un altro discorso ancora, insomma. Sì, ma d'altro non è sai, l'importante, poi a tutti è sempre un consiglio, è quello di non pensare che si deve aderire a un pensiero, a un partito, a un movimento, a una religione, cioè il termine conversione nel paganesimo non è mai esistito, il termine conversione esiste solo all'interno della follia del monoteismo, perché non si aderisce a qualcosa, cioè si comprende quello che si è, si comprende che siamo delle divinità all'interno di un mondo divino, e di conseguenza questo è diverso, ma questo non è conversione, significa soltanto prendere coscienza, capire, comprendere e riconnettersi al mondo, significa osservare il mondo, cioè il paganesimo non è un insegnare come si osserva, il paganesimo è un ricordare che devi guardare e devi osservare. Se poi le persone fanno la scelta di non guardare, di non osservare, di rimanere ciechi, di rimanere soli, di rimanere insensibili, è un loro errore, ma al di là di questo errore, il fatto che loro neghino l'assessibilità del mondo, non implica che il mondo stia fermo, non implica che il mondo sia capace di agire anche su di loro, nonostante la loro negazione che il mondo sia divino, cioè di conseguenza devono sempre rendersi conto che anche non scegliere o rinunciare alla scelta, intorno a noi viaggiano energie, viaggiano forze, viaggiano divinità e queste divinità agiscono in qualsiasi caso. Comunque io vi consiglio di leggerlo se ne avete voglia questo libro, ma tutto sommato non è che dice cose di più o diverse da quelle che abbiamo detto noi, semplicemente alcune di queste cose tipo quelle della ritualistica, tipo quelle del richiamo alla Dea, anche l'importanza del calendario, l'importanza dei segni zodiacali, tutta questa roba sta tentando di sparire dal paganesimo, non che sparisca del tutto, però ha una dimensione più finalizzata a quello che è la vita dell'uomo, cioè non è una cosa distaccata dalla nostra vita, mentre invece qua era quasi una cosa diversa dall'uomo. Sì, beh, Dato Raffaele Trinelli pubblicando un libro del genere già ha dato un segnale ben chiaro, nel senso che anche in Italia hanno notato che esiste un pubblico, un insieme di persone che queste tematiche sono interessate, sono interessate in maniera superficiale e altre in maniera più profonda, ma già altri libri erano usciti, per Raffaele Trinelli, basta pensare che già negli anni Ottanta uscì un libro di Ugo Volli che si chiamava Per il politeismo, in cui c'era una visione sua molto legata alla dimensione personale di cosa si intendeva per il politeismo, ma pubblicarono addirittura un libro di un attore cecoslovaco che si chiamava La verità del mito e questo è un libro che era un libro poderoso di centinaia di pasi, andava a dimostrare che non esisteva una superiorità della scienza, ma che la scienza aveva le stesse basi del mito e che di conseguenza non esisteva un qualcosa che era superiore, che era il migliore, ma che tutti e due partivano da un'affermazione che anche il mito poteva benissimo dimostrare qualsiasi cosa e la scienza non poteva rogarsi di essere superiore. Sono tutti quanti libri che danno un loro contributo, che danno un loro segnale ben preciso e che logicamente le persone che sono attenti possono utilizzare come bagaglie, non sono poi dei libri vincolo, non sono dei libri di fede, non sono dei libri dottrinali, sono soltanto degli stimoli e sono sempre delle manifestazioni di pensiero che possono essere utilizzate e che vanno utilizzate, cioè non è un libro su cui si deve adagiarsi, è un libro a cui si parte per comprendere. Questo libro sui credenti della nuova era avuto un certo successo, perché innanzitutto è fatto abbastanza bene, l'autore ci ha lavorato parecchio e traspare dal libro un suo trasporto verso quel tipo di paganismo, verso il paganismo più in generale. Non coglie le debolezze, perché per cogliere le debolezze bisogna essere andati oltre, chiaramente però lui lo vede al risveglio del rapporto fra l'uomo e la terra, un rapporto che era stato distrutto dal monoteismo e che viene riconquistato un po' alla volta. Riecheggiano in alcune parti, ancora il monoteismo, tipo curare la terra, ma chi sei tu pidocchio che vai a curare la terra? C'è questa forma di megalomania che hanno certi personaggi, è sempre educazione cattolica, per cui riecheggia tutti questi aspetti anche vicini alla new age e alla vicinanza, però effettivamente mette in luce che c'è questo diverso sentire il mondo, questo diverso percepire il mondo, va dal significato dei new age, tipi e stereotipi, parla della gente che ascolta la terra parlare, parla di riti indiani, dell'arte droidica, cioè in pratica fa questo escurso un po' generale per mettere in luce che ci sono queste cose diverse. Un capitolo significativo è la critica che i pagani fanno alla new age, che alla fine ce la dico chiaramente, la new age è solo un fatto di mercato, solo un fatto di vendere certi prodotti o di vendere certi corsi, e infatti normalmente i pagani non si riconoscono alla new age, proprio perché la new age prima di tutto non esiste, ed è soltanto un'abile campagna pubblicitaria di alcune aziende che così possono vendere una serie di prodotti, e anche perché alla fine la new age non offre nulla, cioè offre a chi la vende, a chi le propone, cioè a chi ne fa un servizio, però per quante persone possono spiegare il loro tema della new age, benefici diretti e indiretti non ne avranno mai, anche perché stanno sempre alla ricerca di un qualcosa che non c'è, anche perché la new age implica un concetto che è veramente pericoloso, che è quello del maestro, del maestro più o meno occulto e del disceplo, cioè come le persone dovessero sempre sottostare a qualcuno che gli porta la verità, e questo è un concetto molto pericoloso. Sì, no, oltretutto i danni che vengono fatti dalla new age e da alcuni che si spacciano per maestri tipo indiani, tipo orientali, eccetera, sono veramente gravi nei confronti delle persone, non sono gravi come l'educazione cattolica all'interno delle parrocchie, però sono gravi perché prendono delle persone che hanno una certa sensibilità e gliela canalizzano quella sensibilità, per cui anziché queste persone usare la loro sensibilità per esplodere nel mondo, in pratica vengono riportate all'interno di una parrocchia, cioè c'è la riproduzione in altri termini della parrocchia, per cui effettivamente queste persone sono pericolose, ma ripeto, sono pericolose meno in ogni caso delle parrocchie, tanto per essere chiari, anche dopo qualcuno non mi fraintenda. Una cosa volevo dire di questo libro, questo e anche tutta l'attività dei pagani in generale, è che il paganesimo si confronta nel tempo, cioè c'è la trasformazione del soggetto che agisce nella vita. Se l'agire nella vita ti lascia a vuoto un giorno, ti lascia a vuoto due giorni, ti lascia a vuoto per un mese, un anno, due anni, alla fine che te ne fai della tua credenza? Sì. Capisci? E' questo che non hanno mai calcolato tutti i vari pseudomaestri, tutti i vari neoegisti, eccetera, è che la vita ha un lasso di tempo che va dalla nascita alla morte, per cui è inutile vendere un inganno, quando quell'inganno non porta più il risultato, ma non solo promesso, ma anche sperato, sognato, agognato dalla persona, chiaramente si scioglie, si squaglia, insomma, ed è la fine che vorrebbero farci fare noi. Sì, ma anche perché la cosa che qui va ribadita è che la new age pensa sempre alla rivelazione o all'illuminazione, ma non esiste nessuna struttura che ti possa dare una rivelazione o all'illuminazione, perché puoi soltanto apprendere, ma l'apprendere significa vivere dal primo giorno della propria vita all'ultimo giorno della propria vita, cioè non esiste il momento in cui ti arriva un meteorite sulla testa, ti apre chissà quale via di luce o all'illuminazione, cioè nel paganesimo non esistono questi fenomeni speciali o effetti speciali, o effetti catastrofici, nel paganesimo esiste dire, da quel momento in cui tu sei conscio di vivere e di esistere finché non sarai, lì potrai costruire la tua esistenza. Quando dico che non hai risultati, non intendo dire non te feschei o non te che hai potere, no, dico risultati di trasformazione intima, cioè risultati di modi diversi di affrontare la vita, di vedere la vita e di concepire la vita, questi sono i risultati che devono arrivare, risultati della nostra percezione, della nostra sensibilità, del nostro modo di porsi davanti al mondo, che sia non solo più utile nell'affrontare la vita quotidiana, ma che sia anche più in sintonia con le nostre tensioni che da dentro di noi spingono verso l'esterno, perché ricordiamoci che sono quelle che è la vita, insomma. Sì, ma d'altro ne, poi una cosa fondamentale è che ad esempio nella New Age ti dicono sempre di rinunciare alle tue passioni, alle tue energie o ai tuoi emoti o ai tuoi impulsi, ma noi dobbiamo sapere che i nostri emoti, i nostri impulsi, le nostre volontà sono desideri e sono anche delle divinità in se stesse, di conseguenza rinunciare a qualcosa di se stessi è sempre dannoso, anche perché la rinuncia è sempre una privazione e non c'è nessun motivo perché noi dobbiamo rinunciare a qualcosa. Se ne può disciplinare l'espressione, perché chiaramente se uno si ha le furie dentro che spingono, poi mi andrà in giro a smaccarga la testa a tutti, cioè vanno disciplinate le forze che da dentro di noi vanno verso l'esterno, ma non vanno né distrutte né domate, devono portare tutte il loro risultato, perché? Perché il fine è sempre quello di costruire noi stessi, se no muoiono anche loro. Sì, ma non esiste nulla che sia negativo in se stesso, cioè esiste qualcosa che è negativo per la società, ma soprattutto, sai, anche la mania che loro hanno del lato chiaro, del lato scuro, del negativo, del positivo, sono delle grandi cavolate in sostanza, cioè sono veramente delle menzogne, cioè significa chiaramente star lì e poi usare un metodo di bilanza delle cose, ma nella vita non si usa mai la bilanza, cioè tutto quello che ha appartiene al nostro bagaglio, appartiene alla nostra esistenza, e se quello che noi abbiamo va tutto utilizzato, di conseguenza non possiamo, come dicono i new age, perdere giorni e mesi della nostra esistenza per combattere un presunto aspetto negativo, perché l'aspetto negativo è solo nel valore morale che noi gli diamo a quello, cioè non esiste nulla che stabilisce, che faccia da giudice, e anche la volontà di porre dei giudizi sui comportamenti, sulle espressioni, sul fatto di dover essere sempre soft o di essere sempre... cioè, e anche quello implica soltanto un cercare di condizionare le proprie energie, le proprie energie vanno comprese, vanno utilizzate, non vanno accantonate, vanno sempre comprese a cosa servono, certo esiste la disciplina, esiste l'autodisciplina, e questo è fondamentale, ma l'autodisciplina non dà una valutazione negativa delle cose, dei propri impulsi, si dice che i miei impulsi possono essere utilizzati in base alla mia volontà, cioè sono sempre io che utilizzo quello di cui ho a disposizione, è perché noi dovremmo rinunciare a qualcosa che è nostro, che ci appartiene, che fa parte della nostra natura, e sembra quasi una volontà cristiana del peccato originale, di qualcosa che ti viene scaricato addosso, per questo la new age è pericolosa dal punto di vista della realizzazione personale e individuale. Poi le new age e altri non riconoscono l'input che dà la vita, la società, l'esistente al nuovo nato, cioè il nuovo nato che come viene fuori, o già quando è in pancia della madre, non viene resettato, ma gli si dà tutta un'impostazione con cui affrontare la vita. Se l'impostazione viene data da un sistema sociale malato, è un'impostazione malata, e dovrà reagire e vivere attraverso un'impostazione malata. Cioè questa è l'atrocità degli oratori e delle parrocchie, è quella di distruggere la psiche delle persone, costruire le persone malate, perché le persone malate vengono costruite, esistono probabilmente delle persone più fragili o meno fragili, più sensibili o meno sensibili, ma l'input gli viene dato sempre e comunque dall'ambiente che incontrano nascendo, e un ambiente malato produce persone malate. Sì, ma soprattutto una cosa che è fondamentale e che deve essere compresa, è che il discorso che appunto molti fanno del peccato originale o del karma, non è assolutamente vero. L'unico karma che può esistere è l'ambiente, la cultura in cui ti ritrovi, degli influssi che tu ricevi. E poi non esistono dei modelli che sono così matematici. Per citare Platone, Platone diceva, lui parlava delle quattro componenti della società, ma diceva che questi componenti non sono meccaniche, perché un ragazzo che appartiene a una certa categoria può nassi in un'altra categoria. La capacità sta nella società, nelle persone, nell'individuo, nello Stato, né riconoscere la sua natura e di farlo vivere nella sua natura, il che implica che non esiste nulla di meccanico, non esiste una volontà creatrice o un Dio o un destino dato prima della nostra esistenza. Il destino che noi avremo sarà anche la situazione dell'ambiente in cui andremo a vivere, perché logicamente in base all'ambiente in cui andremo a vivere la nostra psiche reagirà a quegli stimoli. Non intendiamo la psiche come un qualcosa di razionale, ma come un qualcosa di molto emotivo, di molto primordiale su cui noi andiamo a reagire. Parliamo di robe come quello che si legge in certi passi del Vangelo e non si accorge neanche di cosa ha letto. Non si mette nemmeno le mani nei capelli. Io spero anche quegli orfici che sto commentando di far aprire un po' la mente a quelli che li leggono, però non so quanti effettivamente li leggono. Abbiamo 300 iscritti circa nel main lista, no? Tirano fuori un centinaio che sono un po' di porcheria, tira fuori un po' di doppioni, un po' di questo, verso un'altra cinquantina, restano 150 persone iscritte che dovrebbero leggersi i messaggi, ma non so quanti. Ma in altronde noi sappiamo benissimo che il lavoro è sempre fatto nei lunghi periodi, cioè nel senso che non è che il Paganesimo si presenta come un messia e converte le masse, assolutamente. Cioè nel senso che anche risvegliare le coscienze, gli animi delle persone dopo 2000 anni di monoteismo non è facile, non è semplice, nel senso che veramente, se tu vedi anche la situazione che è atroce, nel senso che io ho visto su un mensile la lettra di un pagano e questo pagano, che si dichiara pagano, si dichiara pagano, dice e fa il paganesimo, dunque vediamo se trovo la situazione, ecco, il paganesimo con la sua cultura, i suoi valori, e la sua etica si configura alla strega di un'opzione. Cioè a uno che mi fa un discorso del genere, che si dichiara pagano, io volentieri gli darei un calcio, nel sedere, tanto per iniziare. Com'è possibile uno che si dichiara pagano che faccia l'affermazione che il paganesimo si configura come un'opzione? Certamente che logicamente quelli che sono pagani in Italia fanno difficoltà poi a comprendere le cose del paganesimo, perché se noi mettiamo il paganesimo a livello di opzione, noi non abbiamo detto che il paganesimo è un'opzione, l'opzione è un... il paganesimo è la capacità della vita di vivere se stessa e questo non... L'opzione semmai sono le tue scelte che fai... Sì, ma le divinità di riferimento, uno può venire, cioè, piuttosto che a Giove, preferisco Zeus, o preferisco Dino, cioè, quella è una settimana individuale che uno non va a contestare, ma perché no a Giove, cioè, nessuno non lo farebbe mai, all'interno del paganesimo, contestare le tue divinità di riferimento. Però questa è un'opzione, cioè, la divinità a cui io mi riferisco, o al pantheon che preferisco... Ma non sentivo che l'avevi preso il numero, ne hai di stomaco. Di conseguenza, cioè, comprendiamo questo, cioè, che è veramente pericoloso, di conseguenza che chi ascolta e naviga su internet troverà, come diciamo sempre, siti trappola, gruppi trappola, e di conseguenza non imprendete quello che trovate per oro colato o date fiducia secamente. imparate a valiare criticamente e con profonda attenzione a quello che andrete a trovare. Perché purtroppo, ricordiamo che i monoteisti non sono lì ad aspettare la loro fine con calma, sono lì che cercheranno, prima di essere annientati o di essere cancellati, faranno dei danni di tutti i tipi, si diventeranno di tutti i tipi pur di cercare di sopravvivere. Anzi, diventeranno essi stessi pagani pur di dire che loro sono il vero paganesimo. Sì, di conseguenza, non prendete perché uno si dichiara pagano di crederli, o di dargli fiducia. Cosa è il tuo paganesimo? Chiedete di riempire di sostanza le affermazioni. Dovreste farlo con tutti, veramente. Ma, diciamo, specialmente quando si parla di religione o di cose, chiedete sempre, tu per cristianesimo cosa intendi tu? Cosa essere tu? Diceva il Brucalifo alla ragazzina che entrava nel mondo del... Astri, adesso mi rinca la via. Comunque era la ragazzina che entrava nel regno della regina di cuori e il Brucalifo chiedeva alla bambina cosa essere tu? Sì, ma a parte questo c'è anche un esempio classico che dà il monoteismo dell'incapacità e il monoteismo dà delle risposte. Quando quel pazzo criminale di Gesù Cristo di fronte a Pilato dice io sono la verità Pilato dice e cos'è la verità? Gesù Cristo non ha risposto perché era incapace. Nel senso se oltre avesse avuto uno che si sottometteva che diceva sì tu sei il Dio creatore tu sei la bandiera di Dio avrebbe avuto gioco falso nel momento in cui Pilato gli dice e che cos'è la verità? Gli pone una domanda e sono duemila anni che Pilato sta tenendo la risposta a Gesù Cristo che cos'è la verità e lui non ha avuto la battuta pronta è rimasta di sospesa proprio perché i monoteisti non possono dare risposte. No, perché lo dice in realtà all'interno del Vangelo di Giovanni c'è cosa lui è la verità sì però lui è la verità come persona non come concetto e come rappresentazione ciò che tu devi credere è in lui come persona ma non per ciò che dice per ciò che fa ma perché lui è la persona per cui se lui dice che suo padre è buono e ti taglia la testa suo padre continua ad essere buono mentre ti sta tagliando la testa cioè questo è l'assurdo e i cristiani nel loro condizionamento educazionale non li fa vedere questo perché i predi cattolici stuprano bambini? perché i cristiani non sanno distinguere che i predi cattolici che stuprano bambini sono dei criminali sono diventati criminali perché sono diventati i predi cattolici e questo è questo semplice assioma non riescono a farlo e comunque quelli che quelli che nei predi che appunto fanno pedofilia sono dei buoni cristiani anzi sono degli imitatori di Cristo scusami Melingo ha osato farsi una donna stare assieme una donna sposarsi con una donna che era una donna non una figa una donna e lo hanno massacrato lo hanno massacrato questi hanno stuprato con una violenza immane trasformandoli in bestie bambini e fanno le riunioni per vedere come salvarsi da questo provateci un po' a fare i confronti se volete tiriamo fuori tutta l'argomentazione di Melingo e discutiamo quello che sia Melingo in fondo ha avuto rapporti con questa donna ma aveva rapporti con una donna e a parte che quello che ha fatto come esorcista è del criminale mi volevo fermare a questo ma che Melingo sia un porco quello è un altro discorso ma per altri motivi ma non certo perché ha cercato però nel rapporto lui il casino con il Vaticano c'ha mica fatto come diceva il porco il satanista l'anti satanista anzi lui i casini con il Vaticano li ha avuti perché lui ha avuto un rapporto d'amore con una donna con una persona e là ha avuto casini questi stuporano bambini e il Vaticano non solo li protegge ma li copre in una maniera veramente infame io se fossi un cattolico ci rifletterei ma siccome non sono cattolico posso vedere cose da fuori andiamo via ai telefonati 049 700 700 e 049 700 838 va bene sì ora appunto io ricordo sempre ai nostri ascoltatori il corso internet che è fondamentale appunto per chi vuole rimanere in contatto in collegamento esiste internet che ha una maniera di informazioni in cui si trovano una maniera di dati e di possibilità e di conseguenza chi vuole rimanere in contatto con noi oltre che questa trasmissione ha la possibilità tramite internet di essere collegato ciao 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 l'assurdo che io trovo è che mentre stuprandoti ti dicono ma guarda che è per il tuo bene in un certo senso sicuramente vogliono dirti questo e lo stupro in definitiva è una carezza hai capito? sì sì infatti anche l'altro l'altro corpo del mondo lì Alibaba lo chiamano è giustificato gli stupri sono giustificati a un certo punto l'altro che si sposa che va a letto con una donna è quello il sacrilego eh sì se l'essi violentata se avessi chiuso un occhio sì 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 certo no ma guarda che è veramente quello che hai detto tu Claudio prima è di una è la palissiano veramente loro ti stuprano e ti dicono basta no no è una stupidata è una cretinata quella lì è una cretinata mentre è un sacrilegio dissacrare ma dissacrare cosa? cos'è che dissacri? ma c'è qualcosa di sacro o non sacro? è quello che è i soldi che loro vogliono l'arroganza ma pensa l'arroganza di descrivere il futuro di descriverti rimanente quello che ti sta attorno pensa è l'arroganza che a me mi fa andare in bestia non dimostri un cazzo non sei capace di dimostrare un cazzo e quello che non sei capace di dimostrare è verità ciao Claudio ciao ciao beh certo il monoteismo è tutta assurdità basta pensare che l'unica religione che ha il concetto di fede è il monoteismo esatto no ma a Roma fede era fides cioè era in fede cioè la tua parola cioè quello che tu davi agli uomini per cui fides era importante in realtà l'hanno fatta come accettazione a critiche sì esatto è allucinante no ma di fatto appunto il discorso proprio del monoteismo sono Claudio Perodena mi sente? pronto? non fanno pure pronto mi puoi parlare perché sono in macchina quindi ho chiuso la radio per non ti sento? eh coniente io vi ascolto molte volte eh proreciso subito che io sono anarchico e fateo vorrei sapere farvi semplicemente due domande una che differenza che c'è tra il vostro cercare e mi correga se sbaglio no una spiritualità nel nel rapporto con la terra con il mondo diciamo con il creato che si intende flora fauna minerali eccetera che per esempio io che a tempo perso nel mio orto eh faccio diciamo l'orto biologico e così quando vado in giro per i boschi vado di non attentare a nulla che non sia nell'equilibrio faccio la raccolta da riciclata eppure non riesco a trovare quelle come si può dire quelle figure e quegli dei che trovate voi e questa è la prima domanda la seconda ma qual è il pericolo per la chiesa cattolica si accetta una doverosa definisco io essenzata sessualità da parte dei suoi ministri ciao e vi ringrazio molto allora eh Francesco vuoi rispondere tu alle domande o rispondo io posso fare due secondi solo per la prima domanda perché tu fai quelle cose e io faccio queste cose anzitutto io non ho un attimo solo per le telefonate io non ho il rapporto con la terra io ho il rapporto con gli dei ho il rapporto attraverso il mio vivere per sfida che ho attraversato tutta la vita pertanto a me piace la terra perché la terra è divina e se tu non riesci a vivere per sfida e non cambiare il tuo punto di vista sul mondo sugli oggetti e sulla terra continuerai a farti l'orto biologico continuerai ad avere anche un buon rapporto tranquillo con la terra e con il bosco però non avrai tutto quel fuoco dentro che ti porta ad incontrare gli dei per quanto riguarda l'ultima domanda io ti rispondo brevemente poi lascio a Francesco e il problema è che se la Chiesa Cattolica cominciasse ad accettare davvero non a parole la sensualità per quello che è nel giro di due generazioni non esiste più il cattolicesimo perché il cattolicesimo è pazzia fobia sessuale sì anche perché una parola che tu hai fatto nella tua domanda è di creato e noi non parliamo mai di creato nel senso che il creato implica un creatore e noi invece sappiamo che tutte le cose che esistono nel mondo sono formate per la loro volontà interagendo anche con altri di conseguenza se noi non siamo non abbiamo la possibilità di comprendere che ogni cosa che noi abbiamo di fronte ognuno ha la sua volontà e la pensiamo emanata non potremo mai riconnetterci con la divinità perché diamo già per scontato che non sia divina di conseguenza questo non è un problema tuo non è obbligatorio vedere gli dei c'è anche chi si mette nella condizione di non poterli vedere certo che uno può anche vivere bene non vedendo gli dei va bene ma per noi questo non è un problema noi li vediamo li percepiamo li sentiamo e cerchiamo di vivere con loro e interagire con loro se tu parti da un presupposto fai una negazione tua assoluta della divinità del mondo e vedrai solo cose ma questo non è un problema per noi non è neanche un'eresia non rappresenta solo una setta di vita può essere breve ok monoteismo del cristianesimo è perché i cristiani credono in un solo Dio e quindi voi pagani fondamentalmente dite che ci sono una miriade di dei e quindi partendo da là naturalmente tutto il resto della dottrina è sbagliata o a parte no 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 perché invertiamo tutti quanti gli assomi fondamentali cioè voglio dire traduco la domanda non è una questione di avere un Dio o molti dei questa è una condizione il problema è che noi invertiamo i termini religiosi non è una volontà creatrice all'inizio del tempo ma è il presente che prendendosi responsabilità della propria esistenza va a costruire la coscienza universale per cui gli dei per noi sono sempre enti relativi non sono enti assoluti davanti ai quali ci mettiamo in ginocchio sono i nostri compagni di strada sì beh oddio per cui noi andiamo noi andiamo a costruire noi noi sto parlando di ogni ente che esiste andiamo a costruire la coscienza universale ma il Dio che ti segue il Dio che tu gli dei gli dei non hanno niente a che fare come creazione del mondo no no assolutamente e loro come si sarebbero formati allora cioè tu hai detto per tensione per manifestazione per riconoscere se stessi quindi è un Dio che ti fai tu no è un Dio che esiste cioè tu dentro hai migliaia di dei hai un crogiolo infinito di dei che dai quali tu dici io questo mi chiamo Marco hai una coscienza tua Marco che si poggia su una valanga di dei questi tuoi dei interni le tue tensioni le tue passioni le tue biologie le tue trasformazioni le tue volontà e tutto il resto chiamano anche gli dei del mondo cioè esistono sia in maniera oggettiva cioè sia come enti nel mondo ed esiste una parte di quel Dio dentro di te ogni volta che tu emani quel Dio ti fai Marta ti fai Giove ti fai Saturno io uso i termini greci o i termini romani ma questo vale per tutti quelli che sono le relazioni col mondo chiami quella divinità quella volontà nell'oggettività affinché ti sorregga cioè c'è una fusione fra il Giove universale che è l'atmosfera e il Giove che tu respiri bene quando tu respiri in modo tale perché devi affrontare per sfida la vita quel tuo respirare non è altro che un'invocazione al Giove perché ti sorregga allora sta attento siccome voi pagani avete inteso perfettamente questo rapporto se uno in un certo senso vivesse e non entrassi in una mentalità del genere in una spiegazione del genere cosa fa? cos'è? uno che perde non so è uno che può comunque usare gli dèi vivendo per sfida pur senza sapere che li sta usando cioè esistono delle persone che vivono con impegno con passione e tutto il resto che chiamano comunque gli dèi a sorreggerli Giordano Bruno era sostenuto da una miriade di dèi eppure era un cristiano però la sua forza evocativa si era tale che gli dèi lo sostenevano dopo lo va a portare anche a Brusale perché non aveva consapevolezza né autodisciplina ma questo è pure nessuno Claudio nell'esperienza cristiana io ho sentito dire che Dio dice che se tu lo ami lui si manifesterà a te non c'è un rapporto così del paganesimo con il Dio vabbè grazie grazie ciao poi molte divinità si manifestano anche in base alla capacità culturale dell'osservatore ma ti rendi conto quello che ti dici ma ti rendi conto e tu cosa dici ma porca miseria cosa dici ciao ciao miseria ciao miseria ha bisogno di venire a telefonare ma ci rendiamo conto il concetto del paganesimo che noi siamo una miriade di dei e siamo separati da una miriade di dei non è un concetto del paganesimo è un concetto di tutta la scienza universale il fatto che io lo uso a livello religioso per far comprendere un concetto una concettazione non è soltanto mia perché quando i pianeti che ha cominciato ad ammassare ammassare materia non facevano altro che separare se stessi dal loro circostante cioè ricordatevi conto che non sto parlando da una roba fuori di testa dal punto di vista della logica scientifica quello che stiamo dicendo è preciso non fa una grinza sì ma è fatti il fatto che non prendo più telefonate anche se i telefoni stanno squillando al limite dopo la trasmissione un attimo cioè il fatto stesso che io stio usando questo tipo di linguaggio per far capire le cose non è da fuori di testa siete voi che non l'avete mai pensato quel linguaggio ma in filosofia nella scienza in tutta anche l'analisi matematica quel linguaggio è usatissimo eh oddio Francesco siamo in chiusura no devo fare una cosa importante se no Franco si arrabbia faccio un appello alla Francesca o a chi ha le cassette della nostra trasmissione da novembre del 96 fino a giugno del 97 se non sbaglio perché Franco li sta mettendo su cd e ha bisogno di avere più cassette possibili di buona qualità perciò se qualche ascoltatore oltre alla Francesca che diceva che le aveva ha la possibilità di procurarsi queste cassette noi gli saremo grati perciò chiamatesi fatevi vivi e verremo a recuperarle proprio perché ci servono per mettere la trasmissione su cd proprio per completare la serie non metto su neanche la sigla mando via subito la pubblicità ciao a tutti ciao a tutti e a rientirsi alle ore 19 ciao 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 ciao